Non sapevo, certo, venire da Clangutti e non cercare di mangiare le pasto. Questa per me è una tentazione terribile, però lasciamo perdere perché abbiamo dei problemi, del peso, quindi anche se gli altri quando vedei questa videocassetta potrete dire ho visto la videocassetta di un grosso personaggio e mi scelgo pure, e comunque mi cerco di questa dieta. Quando si parla di Sena, certamente si parla di Porto, e quando una persona le nasce a Chinte, questi carugginti, i nostri posti, non si può portare via, anche se il progresso è bellissimo, i grattacieli e tutto, però Sena la resta sempre questa qui. E questa è la storia di un uomo che non vuol lasciare la sua casa, la sua casa che le ha appunto in faccia a Porto. Ma cosa è peggio se pensa bene, vuoi cambiare la casa, ma perché? Per te, e dove la travi è in posto che uscire, perché mi non mi sono mai 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 mai, Non mi piace come viaggia la vita Ma non mi stai a parlare Solo a pensare che mi fa tanto male Per tutto il mondo non cambia Sta a casa e sti bar qui di fronte a un porto Qui mi sono lasciato, non mi lamenti Mi è stato tanto bene e sono contento Qui mi sono lasciato, non mi lamenti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.